Sarà il direttore d'orchestra Beatrice Venezzi la protagonista dell'evento che andrà ad aprire l'edizione 2023-2024 di Musica per la città, ossia la rassegna concertistica proposta dai solisti aquilani. I 14 appuntamenti del cartellone, tra novità e graditi ritorni, sono stati presentati nella sede comunale di Palazzo Fibbioni. Presenti l'assessore comunale al turismo Ersilia Lancia, il presidente dei solisti aquilani Fabrizio De Agostini Dragonetti De Torres e il direttore artistico Maurizio Cocciolito. Musica per la città partirà il prossimo 25 ottobre per chiudersi il 21 maggio del 2024. Sarà un'occasione per far conoscere alla città le produzioni che nello stesso periodo della rassegna i solisti aquilani porteranno nei teatri italiani e anche esteri. Tutti gli appuntamenti concertistici di Musica per la città saranno ospitati all'auditorium del Parco del Castello. Voglio sottolineare che più che una stagione è una rassegna di concerti, una rassegna funzionale all'attività artistica, concertistica che i solisti aquilani realizzano in giro per Italia e anche all'estero. E anche quest'anno ci sarà la collaborazione e la partecipazione di grandi solisti che suoneranno con i nostri solisti aquilani. Quindi voglio sottolineare la presenza di artisti quali Tom Kopman, come Giuliano Carmignola, come Mario Brunello, come Davide Capassi. Insomma un repertorio che va dalla musica barocca alla musica contemporanea. Avremo anche una prima esecuzione assoluta di Carlo Boccadoro che tornerà a dirigere i solisti aquilani. Andrea Lucchesini, Filippo Gorini, veramente ce n'è per tutti i gusti e di questo siamo veramente molto felici e orgogliosi. Nel corso della conferenza stampa dei solisti aquilani l'assessore Ersilia Lancia ha toccato il tasto degli spazi fisici per la cultura all'Aquila, assicurando da parte dell'amministrazione su questo aspetto specifico impegno e senso di responsabilità. Parole importanti tra l'altro pronunciate alla presenza di diversi esponenti di istituzioni culturali cittadine. Tra il pubblico infatti c'erano rappresentanti sia della società aquilana dei concerti barattelli, sia del teatro stabile, oltre che naturalmente quelli dei solisti aquilani.